Buonasera a tutti e tutte, se ci siamo possiamo iniziare il dibattito di questa sera, il terzo dibattito del lunedì sera del Festival di Cervo dell'edizione del 2017 e il titolo di questo dibattito, almeno il nome che abbiamo voluto dare a questo incontro è il potere del popolo, populismi e rivoluzione nella crisi dell'Europa. È ovvio che già dal titolo ci richiamiamo anche a una tradizione di lotta, ad una tradizione che dal XIX secolo e dal XX secolo prendiamo diciamo le sue caratteristiche più rivoluzionarie per l'appunto, quando il popolo voleva dire classe operaia, quando il popolo voleva significare un soggetto che si stava emancipando tramite gli scioperi, tramite le resistenze, tramite appunto le lotte popolari. Adesso però siamo in una fase e possiamo dire che questa fase si è accentuata soprattutto negli ultimi due o tre anni, in cui parlare di popolo ha perso moltissimi significati, questi significati a cui mi stavo rifacendo. Siamo in una fase in cui in tantissime persone che fanno parte del mondo della politica istituzionale e si rifanno, richiamano questo concetto e questo nome di popolo. Abbiamo un Matteo Salvini, abbiamo un Donald Trump, abbiamo un Matteo Renzi, abbiamo un Melanchon, abbiamo un Macron, insomma abbiamo tutti i leader di tutto il vasto spettro della politica istituzionale e delle forze politiche e dei partiti che si richiamano al popolo. ed è per questo, cioè a partire già da questa confusione che attualmente ci provoca la parola, che abbiamo pensato a questo dibattito. Abbiamo pensato a questo dibattito a partire dall'altro nome che è associato tendenzialmente al concetto di popolo, che è appunto quello di populismo. Anche se, già solo per la confusione di cui parlavo poc'anzi, dovremmo dire populismi, quindi diverse forme, diverse tipologie di populismi. I populismi sono un fenomeno e una elaborazione teorica, un discorso politico con i quali, come attivisti dei centri sociali e come redazione di Global Project ci siamo dovuti scontrare in qualche maniera, volenti o nolenti. questo perché appunto pervadono ogni tipo di comunicazione politica, sono sui media mainstream, sono all'interno dei servizi dei telegiornali, negli editoriali di Repubblica, eccetera, eccetera. Quindi a partire da quest'onnipresenza dei populismi abbiamo voluto buttare giù delle riflessioni qualche mese fa. E appunto dalle nostre riflessioni sono emerse delle indicazioni, delle impressioni che però stasera vorremmo discutere con gli ospiti che abbiamo invitato all'interno di questo dibattito. E prima di addentrarci poi nel merito dei vari punti, delle varie tematiche che anche noi abbiamo affrontato, ci piacerebbe partire un po' da un punto basilare, molto basilare. Cioè dare una definizione alla parola populismo. C'è confusione, c'è sicuramente un'incapacità di poter dare un'indicazione più o meno precisa del concetto e della parola di populismo. È necessario per poter poi analizzare meglio il problema, essere sicuri di quello di cui parliamo. Prima ho citato una serie di nomi di leader che hanno le provenienze politiche le più disparate. E appunto ogni qual volta si dà un movimento è un partito nella competizione elettorale che non rispetta i canoni per esempio delle classi dirigenti o delle elite neoliberali che hanno governato il cosiddetto occidente negli ultimi decenni, subito si affibbia l'etichetta di populismo. Quindi Salvini è un populista perché va contro il PD, Trump è un populista perché va contro Hillary Clinton, Macron è un populista perché si è staccato dal partito socialista tradizionale. Però allo stesso tempo anche Pablo Iglesias è un populista che appunto è all'interno di Podemos che però è un partito di sinistra al contrario di tutti quelli che ho citato finora. E allo stesso modo Zipras prima del luglio del 2015. Insomma abbiamo sicuramente tutta una serie di confusione.